Siete delle bestie incivili e io non vi rappresento. Con queste parole il sindaco di Buonabitacolo Giancarlo Guercio ha stigmatizzato l'azione di alcuni ignoti che hanno incendiato una centralina elettrica in località Cornalito lasciando al buio un intero quartiere. Proprio poco prima il comune era già intervenuto per riparare un guasto che aveva creato dei disagi nella stessa zona. Alle normali problematiche si sono aggiunte le azioni vandaliche. Il sindaco ha minacciato di denunciare quanto accaduto ai carabinieri. Ai social ha poi affidato invece la rabbia per l'episodio. In questi casi ha scritto provo un senso di vergogna poiché in quanto sindaco rappresento anche personaggi che per chissà quali misteriose ragioni si divertono a distruggere, a rovinare, a inquinare. Siete delle bestie incivili e non meritate nessuna considerazione, non valete niente. Avevamo appena riparato un guasto complesso che aveva causato disagio a molte persone che per troppo tempo erano rimaste al buio. Cosa avete ottenuto ora? Vi siete tolti uno sfizio? Ma che soddisfazione! Io non vi rappresento chiunque voi siate. Mi dispiace per i cittadini residenti in zona Cornalito. A causa di qualche bestia dovete pazientare un altro poco. Il danno è attualmente in corso di riparazione e per la serata dovrebbe essere risolto.